Unioni civili. Con il voto finale della Camera, finalmente anche l'Italia si dota di una legge su unioni civili e convivenze di fatto. Un provvedimento per le coppie omosessuali e per le famiglie che si sono formate al di fuori dello schema classico del matrimonio. L'unione civile garantisce un riconoscimento pubblico all'amore che lega due persone dello stesso sesso, dando valore a un sentimento che costruisce progetti e futuro. Pari dignità per tutti i cittadini attraverso un'assunzione di diritti, ma anche di doveri, verso la persona amata. Viene inoltre sanata la frattura apertasi lo scorso 21 luglio, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condannò il nostro paese per violazione della Convenzione europea dei diritti umani, a motivo della mancanza di protezione legale assicurata alle coppie dello stesso sesso, nell'ambito di una relazione stabile. Le unioni civili, del resto, sono già una realtà. Mentre altri paesi hanno optato per il matrimonio ugualitario. La nuova normativa prevede L'obbligo reciproco all'assistenza morale, materiale e alla coabitazione, alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie disponibilità, la possibilità di un cognome comune o di aggiungere il proprio a quello del partner. E introduce una serie di diritti Alla comunione di beni, in materia di successione, al mantenimento e dagli alimenti in caso di scioglimento dell'Unione, alla pensione di reversibilità, al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana, in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali. A tutte le prerogative in materia di lavoro, a ricevere informazioni sullo stato di salute e a essere designati tutore o curatore del convivente, di decisione in caso di incapacità, donazione organi in caso di decesso e sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie, agli assegni familiari, a tutte le disposizioni fiscali, alle imposte di successione e donazione, all'impresa familiare e alle norme del Codice Civile in materia di contratti, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, ai diritti in materia penitenziaria. La nuova legge non si rivolge soltanto alle coppie omosessuali, ma disciplina anche la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo non vincolato da rapporti di parentela. Anche in questo caso vengono riconosciuti una serie di diritti, fra i quali gli stessi spettanti al conuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, all'assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero. I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza redatto da un notaio o un avvocato con indicazione della residenza, modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, regime patrimoniale della comunione dei beni. Con questa legge la speranza vince contro la paura, il coraggio contro la discriminazione. Una vittoria dell'amore che fa dell'Italia un paese più forte e giusto. Deputati PD, lavoro di gruppo per fatti concreti.